Siamo a Madrid, in uno dei tanti olivetti spagnoli dove si estrae olio d'oliva, uno dei prodotti più consumati al mondo e ingrediente essenziale della dieta mediterranea, ma il suo prezzo ha raggiunto i massimi storici negli ultimi mesi. Spagna è il principale produttore di oliva d'oliva del mondo e, sin embargo, è il paese dove i prezzi hanno subito più di tutta l'Unione Europea. La seccità e ondata di caldo estremo hanno dimezzato la produzione spagnola. Il prezzo all'origine è aumentato del 112% rispetto all'anno scorso, ma gli agricoltori, come Jesús Sanchuelo, si dichiarano in perdita. Abbiamo avuto dei costi di produzione più elevati, storici, come mai. L'acqua che si sta vendendo ora, che si sta subendo settimana dopo settimana, si pagò a un prezzo che appena potremmo cubrire i costi di produzione. Il litro di olio nei negozi spagnoli è aumentato del 52,5% in un anno, ben al di sopra della media europea del 38,3% di paesi produttori come Italia, Grecia e Portogallo. La spagna esporta il 70% della sua produzione all'estero. In un contesto di scarsità di offerta, i consumatori spagnoli, competono dunque per l'olio d'oliva in un mercato globale sempre più duro. In Spagna siamo acostumbrati a unos prezzi del aceite più bassi che nel resto del mondo. E quindi lo che ha fatto è che in Spagna, che erano più bassi, è dove si ha riconosciato più con i prezzi italiani, con i prezzi che si pagano in Estados Unidos, con i prezzi che si pagano in Francia, in Grecia. Se spera che la cosecha di questo anno sia molto simile alla l'anteriore. Una possibile bajata del prezzi del aceite o d'oliva solo vendrà con una maggior produzione, se il cambio climatico dà per fin una tregua a i paesi del Mediterraneo. In Madrid, Jaime Velazquez, Euronews. Grazie. 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 Grazie.